Non di solo calcio vive Lanciano. 30 associazioni attive in diverse discipline sportive, dall'atletica leggera al rugby e alle arti marziali, daranno vita a sportivamente una manifestazione di promozione dello sport e dei vari sport voluta dall'amministrazione comunale di Lanciano. L'assessore comunale allo sport Marcello Dovidio invita tutta la cittadinanza a partecipare sabato prossimo a Ria Fiera di Lanciano. A Lanciano è ben presente il calcio che amiamo, ma i lancianesi e tutti noi amano tutte le discipline sportive. Questo è stato manifestato in più momenti nei vari spazi nei quali si svolge lo sport a Lanciano. Questa manifestazione è una manifestazione pensata per la pratica sportiva, quindi un incontro tra le diverse realtà, tra i cittadini, che verranno in tuta e scarpe sportive. Ci saranno tanti campi piccoli per praticare di sport più diversi che si possono praticare in città, quelli con la palla, quelli senza palla, quelli a corpo libero, quelli con le rotelle. Anche il parkour, l'atletica leggera, il parkour per chi non lo sapesse è una disciplina che permette di attraversare la città, superarne gli ostacoli in una maniera vivace e più dignitosa e da cittadini possibile. Questo è il tipo di attività che si svolgerà nel padiglione 2 della fiera, con la presenza delle scuole al mattino, ma non soltanto, e dal mattino all'ora della cena gli spazi saranno aperti ai cittadini che potranno incontrarsi e praticare lo sport. Circa un centinaio le associazioni sportive presenti in città, una trentina, quelle più attive, che parteciperanno sportivamente e nel frattempo il Comune sta ricostruendo la consulta dello sport. Si sta facendo un lavoro attraverso le manifestazioni, gli incontri, che sono molto vivi e dicono dello sport e praticano lo sport, non sono delle sfilate, e si sta operando insieme per creare un organismo di partecipazione, di costruzione, di scelta da parte dei cittadini e delle realtà sportive, di come deve funzionare lo sport nella nostra città. Sta nascendo, vuole nascere una consulta dello sport che effettivamente operi e che abbia una costanza di intervento nella vita della nostra collettività.